Ciao a tutti, come vi avevo già detto, voglio spiegarvi come faccio io a inamidare, tra virgolette, perché non userò amido, come vedrete, il pizzo per fare appunto questo tipo di gioielli, tanto di moda in questo periodo. Quelli che vedete adesso sono proprio stati fatti grazie al procedimento che state per vedere e niente, spero possa esservi utile e per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi. Ciao ciao! Ciao! Io in questo caso ho utilizzato del semplice cartonaccio. Poi in due bicchierini di carta mettete circa la stessa dose di colla vinilica e acqua. Io ho utilizzato poco prodotto perché andrò a fare praticamente soltanto poco pizzo, quindi non c'è bisogno di una grande quantità. Nel caso noi utilizzassimo del pizzo già colorato oppure se noi volessimo lasciare il pizzo bianco non avremo bisogno di nessun altro ingrediente. Nel caso in cui invece volessimo colorare il nostro pizzo avremo bisogno di colorante. In questo caso io utilizzerò questi pigmenti che ho scelto sia in colorazione viola che come potete vedere color oro ricco. Sono dei semplici pigmenti di quelli che si usano anche per il decoupage per intenderci, ma voi potrete usare anche dei colori acrilici, comunque dei colori che non siano tossici e che siano utilizzabili appunto per poi essere indossate su cose che poi vengono indossate. Io utilizzerò appunto la colla vinilica perché trovo che sia il tipo di inamidatura da virgolette perché di amido non si tratta, proprio per il fatto che a parte il non sporcare come potrebbe succedere con lo zucchero o con l'amido che poi lasciano dei residui una volta asciutti, noi possiamo proprio includere il colore e far sì che rimanga praticamente permanente insieme all'inamidatura e che non sporchi dopo. Quindi andiamo a vedere come bisogna procedere. Per prima cosa bisogna inserire all'interno della colla vinilica il colorante, quindi con un cucchiaino, io in questo caso utilizzerò il color oro. Ok, prendiamo una dose di colorante, questo sta un po' a vostra discrezione perché dipende appunto da quanta intensità vogliate voi dare al pizzo e mescolate. Una volta che avete amalgamato bene il colorante con la colla, come potete vedere sono ben amalgamate, abbiamo una bella crema d'oro, andrete a versare molto lentamente un po' alla volta l'acqua e la farete appunto amalgamare con la colla vinilica e il colore. Quindi procedete prendendo il bicchierino, scusate, versandone proprio un goccio alla volta e procedete mescolando pian piano in questo modo. Ecco, come potete vedere l'acqua è stata ben amalgamata assieme alla colla vinilica e ai pigmenti, quindi non ci resta altro che prendere il nostro bicchierino e versare il contenuto, è bellissimo, sembra oro fuso, all'interno del piatto. Che avevamo, appunto un piatto di plastica mi raccomando, è tutta roba usa e getta o comunque piatti che, robe che utilizzate soltanto per questi esperimenti. Adesso non ci resta che far fare un bel bagnetto ai nostri pizzi, quindi e uno, e due, io ho fatto anche due, ho ritagliato anche due piccoli fiorellini come componenti, vedete, e grazie a una bacchetta di legno, magari, se proprio non volete usare le mani, o in questo caso anche sui guanti evito per evitare, evito per non far casini allucinanti, lasciate praticamente nel colorante per almeno un paio di minuti il vostro pizzo, in questo modo. Lasciate nel piatto e fatevi un caffè nel frattempo. Ok, una volta trascorso il tempo, appunto, di riposo all'interno del colore e della colla, insomma, di tutto il mio scuio lì, strizzate il vostro pizzo, lo adagiate sempre sulla superficie di cartone di prima e con un pezzo di carta, un tovagliolo, tamponate l'eccesso di colore, vedete. Andate a tamponare, anche questi, insomma, tutti i pizzi che avete, ops, vedete, comincia ad attaccare, quindi bisogna fare abbastanza in fretta. E a questo punto, però, per farli asciugare, non dovete lasciarli adagiati sul foglio di cartone, altrimenti appiccicherebbe, perché ricordate che all'interno c'è la colla. Per cui vi faccio vedere adesso il trabiccolo che mi sono inventata io, è una cosa non casereccia di più, peggio di riciclo dell'immondizia, però funziona. Quindi ora vi faccio vedere come procedo io per l'asciugatura. Ed eccoci qui con i nostri pizzi che asciugano su questo trabiccolo qui. Ho preso una scatola di cartone vuota con dello scotch, ho attaccato questa specie di struttura fatta con il filo di alluminio, quello che si utilizza per il wire, ho fatto praticamente questi due, come un girarrosto, diciamo così. Poi ho fatto delle conche all'interno di questo qua, dove all'interno di ognuna, praticamente, io ho adagiato un pizzo, che così rimane steso, non tocca praticamente, neanche tra di loro, non toccano, vedete, e rimane così ad asciugare. Sì, non è bello da vedere, ma chi se ne frega, non è importante il risultato finale. Poi vi farò vedere, magari, a inizio o a fine video, non so che cosa ho fatto con il risultato, appunto, magari di un paio di orecchini montati. Io spero che questa guida vi sia stata utile. Se avete dei dubbi, fatemi sapere. Io vi ricordo che questo è soltanto un mio consiglio su come, appunto, eseguire una sorta di namidatura sul pizzo. Ci saranno un sacco di altri metodi, esiste comunque anche dei prodotti, esistono specifici per l'indurimento dei tessuti. Non li ho mai testati, io sono comoda così, tanto non è che ne produrrò industrialmente, quindi per i miei esperimenti va più che bene. Niente, vi saluto, un bacione a tutti, ciao! Ciao!